Professor Marco Frey, sostenibilità ambientale ma anche strategia aziendale, come conciliare queste due necessità? Allora, ci sono tre elementi chiave che fanno sì che le strategie aziendali oggi possano andare nella direzione della sostenibilità. Il primo motivo è che se si pensa a lungo periodo è assolutamente necessario ragionare, in qualunque settore si operi, di un nuovo modo di formulare la propria offerta al mercato, cambiando il proprio modello di business. Il secondo motivo è che nel farlo bisogna fare quello che Porter ha definito creare share value, cioè creare valore condiviso. Il risultato dell'impresa oggi non è più soltanto il suo proprio utile, ma è l'utile che è capace di creare nel contesto in cui opera, perché questo poi genera dei circuiti virtuosi e la possibilità poi di continuare a sviluppare il proprio business. La terza prospettiva è quella che tutti e anche le imprese e anche le persone dentro le imprese siamo chiamati a una maggiore responsabilità di fronte ad alcuni grandi sfide che stiamo vivendo. Noi viviamo tre crisi, un'economica, uno sociale e un'ambientale e tutte stanno diventando particolarmente impellenti e urgenti. In questo le imprese responsabili diventano protagoniste, coprotagoniste di un percorso di impegno che ovviamente le unisce agli altri attori della società. Lei in università incontra quelli che dovrebbero essere in un futuro prossimo i protagonisti di questa coesione. Sì, assolutamente. Noi facciamo formazione per gli allievi ordinari, sono studenti universitari, particolarmente in gamba alla scuola superiore Sant'Anna dove insegno. Poi insegniamo anche a quelli che fanno il dottorato, per cui quelli che cominciano ad applicare delle conoscenze scientifiche per trovare delle soluzioni in questa prospettiva, ma insegniamo anche alle imprese. Quindi cerchiamo di mettere insieme i diversi attori non dimenticandosi delle istituzioni che sono fondamentali in questa prospettiva e oggi forse devono poter fare di più anche per riconquistarsi credibilità. Hai detto anche che il cittadino consumatore deve essere messo al centro di questo processo. Si sta ponendo al centro, io mi ricordo quando parlavamo 30 anni fa dei primi esempi di prodotti sostenibili, in questo caso Anker, con la pubblicità della barchetta sul laghetto, che non era riuscita a superare il 7% di quota di mercato. Oggi quando parliamo di prodotti che hanno queste caratteristiche viaggiamo sopra il 30, quindi comincia a diventare una dinamica in cui il consumatore è realmente protagonista, se il consumatore seleziona i prodotti sulla base delle caratteristiche ambientali e sociali dà una spinta forte e così tutti insieme possiamo contribuire a un mondo migliore.